Ho deciso di partecipare a questo progetto perché come immagino tante altre famiglie non abbiamo nessun altro aiuto per nostra figlia perché non abbiamo nonni, zii, fratelli, sorelle, cugini, nessuno e ci piaceva l'idea di affidarci ad una struttura di base familiare piuttosto che ad una scuola o un campo professionale e questa è stata l'idea di base da quale siamo partiti. È proprio quello perché è familiare perché affida il tuo figlio a delle famiglie che poi affidano il loro figlio a te e poi è la cosa bella che conosci altre famiglie e si crea una rete di supporto e di aiuto e nuove amicizie perché no sia per i bambini che per gli adulti e secondo me la differenza fondamentale non è a pagamento quindi anche questo è un valore volendo aggiunto quindi non c'è interesse economico per nessuno è un'altra struttura. Questa per me è la parte sorprendente perché io avendo una sola figlia non ho mai ottenuto Massimo lei più un'amica più due amiche ma Massimo. Mi è piaciuto, ho trovato una cosa simpatica, divertente, utile e è un'esperienza che devo ancora fare peraltro del tutto ma mi sembra che stia andando molto bene. I ragazzi sono divertiti e anche credo i genitori ed è un modo bello per fare comunella e stare tutti insieme.